Eccola qui la nostra lente d'ingrandimento, ma la protagonista della rubrica è la dottoressa Barbara Fabroni. Buona serata, ben ritrovata. Salve. Buonasera a voi. Psicoterapeuta, giornalista e criminologa. Tra poco vediamo il titolo che ci riporta Davide Rossi, però restiamo su Emanuele Orlandi, non so, qualche curiosità di Gabriele Rao per i nostri ospiti sul caso Orlandi. Io ripartirei proprio da quello che giustamente diceva Pietro, è impossibile, sarebbe impensabile ripartire dall'anno zero e ripercorrere anche delle piste altamente suggestive che in passato hanno suggestionato ma che poi si sono dimostrate infruttuose. Però permettimi se ti interro, qualcuno ha provato a ripartire dall'anno zero ritirando fuori la storia del tuo zio. Molto, prima dell'anno zero. Questo per far capire, no? Prego. È un'insidia questa anche, secondo lei, dottoressa Fabroni, ancora presente nonostante siano passati molti anni, quella di inciampare un po' nell'equivoco, nella suggestione fine a se stessa e nel perdere di vista invece magari determinate strade o ambiti che non sono stati adeguatamente esplorati? Guardi, a volte partire dall'anno zero è un modo anche per non andare a vedere quello che accade nel qui ed ora e quello che sta emergendo. Forse è un ulteriore depistaggio anche perché c'è la voglia di spostare l'attenzione e ripartire appunto come diceva Pietro nel caso della sorella dal rappresentante dell'Avon. Io credo che di anni ne sono passati veramente tante, di situazioni sono emerse e forse partire dalle cose che adesso ci sono e quelle cose che sembrano emergere, che sembrano avere una valenza significativa è molto più importante perché sono fresche, comunque possono riaprire comunque come dire una finestra di osservabilità completamente differente perché ci sono basi molto più significative di un rappresentante che forse nessuno ha visto e c'è un grande punto interrogativo, tanto per citare giusto il rappresentante dell'Avon, ma voglio dire di esempio ce ne possono essere tanti, un po' come nel caso anche di David Rossi, cioè partiamo da quello che la prima commissione d'inchiesta ha fatto perché comunque anche se poi è stata sospesa perché è caduto il governo Draghi però comunque alcune cose sono emerse, avete parlato di quel video che è stato cancellato nella chiavetta USB ma a questo si aggiungono anche tante altre cose, anche soltanto c'è stato un racconto che ha fatto Carolina Orlandi in cui faceva comprendere quanto il padre fosse preoccupato, a un certo punto loro avevano questa modalità lei raccontava di disegnare insieme, a un certo punto Carolina le fa una domanda il padre dice disegniamo, le disegna un cane e poi le scrive una frase di stare attenta a quello che si dice in casa, per cui la ragazza comprende che c'è qualcosa che non va, così come con il fratello che si era reso conto con il pranzo che qualcosa non accadeva, voglio dire David Rossi doveva andare la sera a prendere le polpette dalla mamma, quindi una persona che ha idea di uccidersi sicuramente non fissa un appuntamento con la madre ma molto probabilmente altro, pensiamo anche soltanto alla sua vicina distanza, la sua collega Lorenza Bondi che quando esce non ha sentito nulla, vede la stanza del collega aperta e illuminata, non si preoccupa, non lo saluta e poi quando la figlia Carolina Orlandi arriva con il Filipponi quella stanza, la porta della stanza è chiusa e la luce è accesa, la stanza di David Rossi, mentre lui purtroppo giace a terra nella strada, ma a questo si può aggiungere per esempio anche la negligenza di chi era addetto alle telecamere e all'ingresso all'interno del Monte dei Paschi, cioè non si è accorto che un corpo era accaduto per più di un'ora, per cui ci sono veramente tantissime cose che si possono reaggangiare a questa situazione e vale la pena comunque di andare a guardare, fare finalmente comunque accendere i riflettori totalmente su questa vicenda. Ecco visto che abbiamo unito con la dottoressa Fabroni i due casi, vediamo il titolo di lente di ingrandimento che è proprio incentrato su quello che appena ha detto alla nostra psicoterapeuta giornalista e criminologa, i troppi lati oscuri del giallo di Siena, la morte di David Rossi, però con Laura Volpini e Emilio Orlando, una battuta su Emanuela Orlandi, la commissione Orlandi-Gregori, Laura Volpini, il tempo vola. No, no, sì, sì, ma stavo riflettendo come in 40 anni di fatto non c'è mai stato un vero e proprio indagato, almeno un indagato, cioè è qualcosa che veramente colpisce. Poi stavo pensando che Emanuela era presente una mia coetanea, quindi insomma... Anche mia. E quindi poi io mi occupo di persone scomparse, nel comitato scientifico ricerca scomparsi e sappiamo benissimo che gli adolescenti che per esempio si allontanano volontariamente, poi è facilissimo dopo poco ritrovarli. Quindi insomma era già dall'inizio che questa storia, questa situazione era piuttosto oscura e bisogna andare già in una direzione che era quella purtroppo dell'omicidio di questa povera ragazza. E che torniamo al discorso di prima, se ci sono dei poteri forti e se c'è un conflitto poi stato chiesa, perché qua i sospetti sono anche in una certa direzione, è chiaro che poi per lo Stato italiano può essere ancora un po' più complicato, non per giustificarlo, ma ecco sono due Stati anche diversi. Di certo il conflitto c'è stato, se non altro, per quanto riguarda la pertinenza su chi dovesse indagare, considerando che lei, cittadina vaticana, è scomparsa a Roma. Emilio, vorrei conoscere anche un tuo punto di vista a proposito della commissione su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, proprio sull'impostazione che vede appunto questi due casi contraddistritti da un possibile legame, non solo forse a livello cronologico e temporale. Tu cosa ne pensi? Un legame sicuramente potrebbe emergere come è vero che le commissioni parlamentari tardano ad essere formate, io credo per un discorso esclusivamente politico, anche su altri casi erano state aperte delle commissioni, fra cui Simonetta Cesaroni anche, che anche quella sembra essere stata per il momento rallentata. Quanto riguarda Emanuela Orlandi, sviluppi è certo che ce ne saranno, non probabilmente nell'immediatezza, il Papa è in una certa condizione di salute per il momento, ci si appresta al giubileo, quindi ecco se la procura, diciamo che già in possesso di, la procura di Roma è già in possesso di alcuni dati, io credo che sia il momento insomma che questi dati inizino un po' a uscire, anche le risultanze che loro hanno raccolto proprio nel colloquio con Capaldo, risultanze insomma importanti che potrebbero in un qualche modo diciamo riscrivere quelle che sono le ultime fasi della scomparsa e riaccendere un po' le speranze della famiglia di avere la verità. E peraltro vedevo Pietro quando la dottoressa Volpini ha parlato di omicidio di Emanuela Orlandi, perché tu ovviamente poi speri sempre di trovarla viva, questo voglio sottolineare. Certo, finché non trovi l'essere per me è un dovere cercarla viva, ma non so se la scomparsa di Emanuela nasce da un omicidio, cioè secondo me, ma rimane un mio pensiero, c'è comunque la base, un ricattato e un ricattatore. Continua ad esserci, probabilmente. Secondo me continua ad essere, perché in questo momento, stiamo parlando del Vaticano, lo Stato più potente e influente al mondo da sempre. Più piccolo, ma più influente e potente. Quarant'anni che non riesce ad uscire da questa situazione. È perché sicuramente c'è ancora qualcuno adesso che ha in mano le prove di quello che è successo e le prove evidentemente coinvolgono persone di un certo livello che stavano all'interno del Vaticano, ma anche fuori dal Vaticano. Perché sappiamo quel legame stretto. Se noi pensiamo, l'ho detto anche l'altra volta, due mesi dopo la scomparsa, c'è una sorta di invito a livello di presidenza del Consiglio italiano e la Santa Sede, rispetto al rapimento di Emanuela, a non aprire una falla che difficilmente si potrà chiudere. È evidente che la verità sulla scomparsa Emanuela, come la stessa cosa di Davide Rossi, dicevo, se si apre e esce fuori quella verità è come il basso di Pandora, si tira fuori tante di quelle cose che nessuno vuole che escano. A Capaldo fu detto non dovrà né potrà uscire fuori, la verità, giusto? Ricordo bene, fu detto questo. Sì, quando gli dissero possiamo darle un fascicolo, ci sono i nomi di alcune persone che potrebbero aver avuto un ruolo, però oltre quei nomi non si può andare assolutamente. Ricordiamoci che la verità non potrà e non dovrà mai uscire. Quindi ricordavo bene questa frase, Laura Orpi, per precisare. Ho parlato di omicidio proprio per quello che diceva Pietro prima di questo colloquio di Capaldo, che gli dicono i resti li facciamo trovare, eccetera. Poi però stavo pensando sulla psicologia dei familiari, delle persone scomparse, è proprio quella di Pietro, cioè di fatto che sono vite sospese, quindi fino a quando, come ha detto lui, uno non trova almeno i resti, io la speranza ce l'ho. E questo è un dramma per queste famiglie, perché comunque la loro vita si è congelata in quel momento, in quell'episodio della scomparsa. Quindi la cosa, se vogliamo, anche più crudele, oltre alla scomparsa, ma se questa ragazza oggi non c'è più, ma perlomeno fate trovare i resti. Proprio per ridare alla famiglia comunque la possibilità di elaborare un lutto, perché questo non è possibile per le famiglie che non hanno ritrovato almeno il corpo del proprio caro, elaborare il lutto e quindi diventa una vita sospesa, la loro vita sospesa. Torniamo alla dottoressa Fabroni, rivediamo il titolo anche di lente di ingrandimento, i tanti lati oscuri, ne abbiamo parlato dei tanti lati oscuri, troppi lati oscuri, quelli che ci ha appena elencato, lei, ne vogliamo aggiungere qualche altro? E poi sentiamo Mussari, l'ex presidente del Montepaschi Siera. Guardi, basta soltanto, secondo me, vedere il video di come è caduto David Rossi, il fatto che lui è stato lì agonizzante, tra l'altro si vedeva come se ci fosse un furgoncino o una macchina, per cui nessuno è andato a soccorrerlo. Al di là di quello, anche soltanto la seconda autopsia che è stata fatta, quella che è stata fatta con la commissione d'inchiesta, in cui hanno evidenziato... Si escono dopo la caduta, dottoressa, questo era stato nascosto praticamente, è riuscito fuori... Sia questo che è stato nascosto, ma nell'altro video dove si vede proprio lui che cade a terra in pratica, si vede che cade a terra in una modalità molto particolare, perché cade di schiena, come se lui cadesse, prima si siede e poi la schiena va giù, per cui è una situazione molto particolare, una persona che si getta da una finestra non si getta di schiena generalmente, per cui anche quella è una cosa molto strana e lo si vede anche che si muove in questo video, per cui se i soccorsi arrivavano, tra l'altro la seconda autopsia ha evidenziato che c'era un lasso di tempo di 20 minuti, 22 minuti in cui se soccorso, benché avesse un'emorragia interna molto importante, poteva essere salvato, perché era un uomo in buono stato di salute. Ma al di là di quello, alla visione del corpo si vede che è un corpo in cui c'è stato primo, sicuramente una collutazione, di là dal fatto dell'orologio che poi hanno, come dicevate voi anche prima, due orari diversi dalla caduta, poi l'orologio quando è stato gettato di sotto ha un altro, si ferma a un altro orario, ma al di là di quello tutte quante le chimosi, lui ha le chimosi anche nei testicoli, all'interno del corpo, ci sono quei taglietti, quei tre taglietti su cui è stata fatta un'infinita narrazione che si dice che lui avesse fatto, avesse un atteggiamento autolesivo, cioè voglio dire hanno aperto tantissimi capitoli come a cambiare direzione, però sta di fatto che quello è un corpo che prima sicuramente ha subito altro, prima di essere stato, come dire, io dico gettato dalla finestra, ma diciamo caduto dalla finestra e a questo si aggangiano tantissime altre situazioni, per esempio i suoi amici più cari a un certo punto sono spariti completamente, la famiglia stessa dichiara che sono stati lasciati soli, come se questa vicenda dovesse essere congelata lì, cioè anche soltanto i tre magistrati che sono arrivati e entrati nell'ufficio di David Rossi, dove hanno guardato tutto, hanno spostato le carte, hanno risposto al telefono, hanno inquinato totalmente questa scena del crimine, ce ne sono veramente tanti di situazioni. Io credo che ci vuole la volontà di riuscire a capire che cosa è accaduto, perché senza la volontà non andiamo da nessuna parte. E allora andiamo a sentire, a vedere un brano, un estratto dell'audizione dell'avvocato Giuseppe Mussari, ex presidente del Monte dei Paschi di Siena, questa era l'audizione legata alla prima commissione parlamentare d'inchiesta, la seconda si è formata, ma ancora non è riuscita a partire a livello vero e proprio di lavori. Sentiamo cosa disse Giuseppe Mussari in commissione. Non si rammaricherà, presidente, se per rispondere utilizzerò due testi scritti. Uno scritto da me alla moglie di Davide pochi giorni dopo la tragedia e uno, e non mi sembrerà paradossale la cosa, è un pezzo di un interrogatorio reso da Davide Rossi alla Guardia di Finanza dopo la perquisizione del febbraio 2013. Ho amato Davide come un fratello, un rapporto tanto intenso quanto discreto, quasi una prova di forza verso la comune ritrossia ad esprimere i propri sentimenti in maniera lineare e libera. Rammento che probabilmente prima di Natale scorso Mussari mi ha chiesto di verificare l'esistenza di articoli di stampa, aventi ad oggetto la sottoscrizione del Fresci 2008 da parte della Fondazione Monte dei Paschi. Ho fatto soltanto una ricerca sommaria, anche perché mi seccava dover utilizzare la rassegna stampa della banca per una sua esigenza personale. Ricordo di aver avvisato Mussari che non avevo trovato nulla a tal proposito. Non ho mai ben capito a cosa potesse servirgli questo eventuale articolo di stampa. Non ero più presidente del Monte dei Paschi ormai da mesi, ma la richiesta che avevo fatta a Davide era una richiesta sbagliata. La sua risposta era la risposta giusta. Ecco, questo era il nostro rapporto. Alla fine, se lo volete espresso in maniera più sintetica e con parole né mie né di quelle di Davide, quel che conta tra amici non è quel che si dice, ma quello che non occorre dire. Davide ha iniziato a lavorare alla Fondazione Monte dei Paschi perché era il più bravo di tutti. E quando dalla Fondazione Monte dei Paschi sono stato nominato alla Banca Monte dei Paschi, ho chiesto alla Banca Monte dei Paschi di assumerlo come responsabile della comunicazione perché nel suo lavoro era il più bravo di tutti, non perché era mio amico. Ma vi frequentavate anche al di fuori dell'ambiente professionale? È successo, ma non era, come ho cercato di spiegarle, se ricercate i canoni di un'amicizia tradizionale o peggio ancora di una meta-amicizia come quelle che si spacciano sui social network di questi tempi, non le troverete. Non ho mai confidato nulla a Davide, né lui ha mai confidato me, ma ero certo che se avessi avuto bisogno di un amico lui c'era e credo viceversa. Era questa la spina dorsale di questo rapporto. E questo è un estratto dell'audizione, ricordiamo, per quanto riguarda la prima commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi di Giuseppe Mussari, l'avvocato Giuseppe Mussari, ex presidente del Monte dei Paschi di Siena. Siamo con questo giunti al termine di questo capitolo e quindi sia dalla parte dedicata alla morte di Davide Rossi che al rapimento di Emanuele Orlandi, giusto 30 secondi con Pietro Orlandi, se c'è da lanciare ulteriormente un appello ai parlamentari fate presto perché tra le europee se passa quell'emendamento, cioè come vediamo il tempo vola. Io so che se puntano adesso martedì c'è l'altro riunione, io mi auguro che, so che c'è tanto lavoro, però mi auguro che non sia una volta a settimana e soprattutto io mi auguro di essere convocato quanto prima. Ecco perché questo è il punto, ancora non vi hanno convocato. No, non hanno convocato ancora nessuno, però hanno detto il presidente della commissione che è depriamo, ho già detto che i familiari saranno i primi ad essere convocati e io mi auguro che sia prima possibile, perché è necessario, perché purtroppo sai qual è il fatto? Che vuoi o non vuoi siamo, cioè la memoria storica di quello che è successo, è successo tutti questi anni, dei depistaggi che ci sono stati, delle responsabilità secondo me ci sono stati anche a livello di indagine, quindi la commissione potrebbe fare tantissimo, se c'è la volontà può fare tantissimo, molto più secondo me di una procura o di un'inchiesta vaticana. Grazie a Pietro Orlandi per essere stato con noi, aver parlato sia della morte di Davide Rossi che ovviamente di Emanuella Orlandi, poi ci rivediamo a giugno, un'occasione del triste anniversario, il 22 giugno, la scomparsa della Vatican Girl, grazie alla dottoressa Barbara Fabbroni, ci rivediamo domenica prossima, ci sentiamo martedì in radio. Assolutamente, grazie, buonanotte. Alla storia oscura dalle 11 alle 12, da lunedì al venerdì su Radio Cusano Camp.